La strada del Cafasso tra buche e buste della spazzatura. La denuncia è di una pendolare capaccese che quotidianamente percorre la via che dalla contrada periferica del Cafasso conduce a Capaccio. La situazione, scrive la pendolare via Facebook al quotidiano La Città, è indecente e assolutamente vergognosa. Tutte le mattine recandomi al lavoro percorro quella strada che oltre ad essere piena di buche e abballamenti è perennemente invasa da sacchi di spazzatura abbandonata da incivili. Molti di questi finiscono spesso sulla carreggiata, costituendo un vero e proprio pericolo per le autovetture, costrette a fare lo slalom non soltanto per scansare i sacchi di immondizia, ma anche per evitare di finire nelle buche che disseminano il percorso. Lungo la zona vengono abbandonati rifiuti di ogni sorta, plastica, sacchi neri contenenti rifiuti indifferenziati di ogni tipologia e addirittura pezzi di servizi igienici come un lavabo in ceramica ridotto in pezzi e accantonato lungo il ciglio della carreggiata. Le istituzioni, conclude, sono al corrente della situazione, ma è possibile che nessuno faccia niente? A chi bisogna rivolgersi per far cambiare qualcosa sarebbe opportuno installare delle telecamere o eventualmente fare degli appostamenti e delle varie multesalate come stabilito dalla legge. Mi auguro che la mia segnalazione non cada nel vuoto, che qualcuno prenda seri provvedimenti, perché si tratta di uno spettacolo aberrante all'interno della bellissima città dei Templi. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è uno dei problemi più avvertiti sul territorio capaccese, vittima da tempo di balordi che i rispettosi dell'ambiente scaricano ovunque i rifiuti. E questo nonostante i controlli effettuati dalle forze dell'ordine e numerose sanzioni elevate per abbandono di rifiuti e imbrattamento.